Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradaria regionale, in FIPILI per lavori 4 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina nella carreggiata e in direzione mare. Prudenza inoltre per pioggia su gran parte della regione, raccomandiamo di motelare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Ci spostiamo sulla SR222 Chiantigiana dove troviamo sensi unici alternati per restringimenti all'altezza del km 15,3 e dal km 15,8 al km 17 circa. Ci troviamo nel comune di Greve in Chianti e il provvedimento è in vigore fino al 14 giugno. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi ricordiamo di rispettare il codice della strada senza utilizzare il cellulare alla guida e rispettando i limiti di velocità anche nelle zone 30. Per ora è tutto, buon viaggio!